signori buongiorno a tutti e oggi per biellese territorio straordinario siamo nel comune di cerione a circa 10 minuti di strada dal centro della città dove in quest'oasi di pace assoluta tranquillità e verde come avete ben potuto vedere vi proporremo l'edificio che vedete alle mie spalle che è composto da due unità abitative completamente ristrutturata nuovo ristrutturazione ultimata nel 2019 si tratta di due unità completamente indipendenti di circa 280 metri quadrati luna con posti auto interno cortile auto rimesse e l'interno che adesso andremo a vedere completamente rifatto nuovo prezzi assolutamente interessanti tra poco li vedremo ed eccoci nella faccia opposto dove abbiamo appunto auto rimessa di proprietà locale a deposito qui due posti auto dedicati ed ora entriamo all'interno dove qui dalla alla z come vi ho già detto e ribadito è stato rifatto tutto nuovo a partire dai serramenti impianti pavimenti tutto andiamolo a vedere ed eccoci all'interno dell'unità centroschiera la volta appena inquadrata è la volta originale che è stata completamente sabbiata e trattata per essere riportata agli attinchi splendori qui per farvi capire l'entità della ristrutturazione che è stata afferta interna un lavoro ribadisco veramente colossale partiamo dai pavimenti qui è stato smantellato il tutto posati gli igloo e riposati sopra i pavimenti quindi questo qua è tutto ventilato serramenti perimetriali esterni tutti sostituiti pvc vetro camera e barriera antifurto su tutti i serramenti entrati di ingresso abbiamo questa graziosissima zona giorno una prima stanza alla mia destra che tra poco vedremo il bagno che serve questa zona e poi con un movimento molto carino estetico passiamo da questo lato percorriamo quattro gradini arriviamo in quella che è l'estensione della zona giorno con un bagno che è una sala da bagno non è un bagno tra poco lo vedremo zona giorno che affaccia su questo balconcino esterno che da sul verde di proprietà da dove siamo partiti qui ribadiamo hanno sostituito tutti i serramenti perimetrali sono tutti i serramenti in pvc vetro a camera zanzariere su ogni serramento e sostituite le gelosie esterne l'unità è composta quindi dalla zona giorno che abbiamo visto al d'ingresso soggiorno due camere da letto la terza al pian terreno tre bagni e manca ma lo vedremo da uno scatto non riusciamo a farvi vedere tutto perché veramente è una proprietà enorme sono in tutto 280 metri quadrati circa unità quindi composta da tre camere da letto tre bagni cucina e soggiorno ora vedremo al piano terreno con un affaccio diretto sul giardino esterno di proprietà abbiamo ancora una tavernetta favolosa ora andiamo a vedere la parte sovrastante che è a russico ma volendo potrebbe essere un'altra unità prima di entrare all'interno dell'ultima porzione ancora un dato tecnico guardate lo spessore di questo tetto è il pacchetto termico che è stato installato il suo interno gronde canali di spluvio in rame anche questa zona affaccio sul giardino interno e poi cameraman si alzi un po lo sguardo vedrai che qui abbiamo un affaccio completo e totale su una macchia di verde ad arrivare poi alle nostre splendide montagne bellesi entrando in questa parte a rustico troviamo già serramenti perimetrali completamente nuovi e sostituiti anta ribalta e apertura normale pvc vetro camera ingresso protetto dalla porta attorazzata e tutto questo ambiente potrebbe essere un estensione della zona sottostante o addirittura un'unità a sè quella appena inquadrata è la porzione che abbiamo appena visitato ridiamo di nuovo due numeri sono in tutto circa 280 metri quadrati di unità abitativa con questo terreno meraviglioso affaccio montagne dietro di me dovrebbe esserci anche il nostro emblema biellese il monte mucrone porzione di giardino due posti auto interni cortile e la propria rimessa come avete visto qui all'interno non c'è assolutamente nulla da fare per quanto la vendiamo ribadiamo il prezzo per soli 165 mila euro se questo non è un biellese territorio straordinario e noi di abita sempre in movimento